Senza Mario Merola e Pino Mauro, l'ultimo protagonista indiscusso della sceneggiata napoletana. Ecco perché il giornalista napoletano Giancarlo Tommasone lo ha voluto al suo fianco nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania per presentare Napoli Purp Fiction, da Mario Merola a Pino Mauro, i dieci film da vedere almeno una volta nella vita. Un genere cinematografico sottovalutato in Italia, secondo l'autore, ma che negli anni d'oro riempiva le sale di tutto lo stivale, ispirando poi i registi di fama mondiale, come Quentin Tarantino, che non ha mai nascosto la sua passione per il genere. Ridare verità a delle pellicole che sono state bistrattate per molto tempo, perché provenivano dalla sceneggiata che secondo i critici soloni o i molti che avevano la puzza sotto il naso erano un prodotto minore della cultura napoletana. In questi film invece, dove la sceneggiata viene riproposta naturalmente con gli adattamenti e con temi diversi da quella classica, perché giustamente va con i tempi, quindi si è evoluta, si rappresentano proprio una branca importante della nostra cultura che poi fortunatamente è stata riscoperta, tanto da aver ispirato comunque dei grandi della cinematografia mondiale, come Quentin Tarantino. Al tavolo dei relatori, il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti, che del libro firma la prefazione, Mimmo Falco, i giornalisti Simone Di Meo e Marcello Altamura, e ovviamente il protagonista di pellicole storiche come Onore Guapparia, e i figli non si toccano. Questo dovrebbe ritornare, capisci, la cultura, altre culture stanno bene, ma pure questa è la cultura, questa è cultura popolare e deve ritornare. Grazie. Grazie.